Patriota, combattente, padre della patria tirolese, martire per la libertà. La riconoscenza verso Andrass Hofer, eroe su tirolese delle lotte popolari contro bavaresi e francesi negli anni tra il 1796 e il 1805, non ha limite e il suo ricordo esalta i cuori di molti oggi, come 200 anni fa. Oste nel paese natio di San Leonardo in Passiria, Hofer guidò i suoi compatrioti a ripetute vittorie contro gli invasori franco-bavaresi, guidati da Napoleone Bonaparte. Divenuto comandante del Tirolo, fu costretto ad una nuova rivolta, questa volta sfortunata. Fuggitivo, venne tradito per pochi denari e condotto davanti al Tribunale Militare di Mantova, fu fucilato il 28 febbraio 1810. Ricordato da molti monumenti, targhe e inni, ad Andrass Hofer è intitolata una strada nel centro storico di Bolzano.